Lunedì 14 marzo, Borgo Palace Hotel, presentazione della 21esima edizione del trofeo Città di San Sepolcro, una delle eccellenze del calcio giovanile, non solo della Valtiberina. Noi parliamo con il presidente del San Sepolcro, Davies Crempo. Sicuramente, noi siamo felici di ospitare anche quest'anno questo splendido torneo che è arrivato alla sua 21esima edizione, che è una vetrina per tanti giovani che cominciano dai più piccoli fino ad arrivare alla Juniores. In questa vallata, in particolare a San Sepolcro, abbiamo prodotto negli ultimi anni, ed è da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni, diversi talenti che hanno trovato anche sbocco nel calcio professionistico. Questa è una grande soddisfazione per la società, ma è soprattutto il frutto di un lavoro capillare che da anni stiamo facendo. Non solo un'attività specifica tecnica sportiva, ma anche per far crescere nell'educazione, nel comportamento di questi giovani. Start-up del torneo 18 aprile, fine 26 giugno, due mesi e qualche giorno di intenso lavoro. Intensissimo lavoro. Mi viene subito da ringraziare a priori tutti quelli che saranno impegnati in questo straordinario lavoro quotidiano per permettere lo svolgimento con grande correttezza e con la massima perfezione a questo torneo. ha sempre riscosso un grande entusiasmo, un grande successo. Siamo certi che faremo bene anche quest'anno, anche con le esperienze degli anni passati.